Ciao a tutti e bentornati a questo nuovissimo video vlogmas c'è Italia, com'è? Sì, siamo e ciò Benvenuti, nuovo video vlogmas numero 14 Dai, talia Lei c'è il formule che trottola? Perché è geloso Allora, novità, però non ce n'è, allora vi faccio vedere le decorazioni E dopo mi metto a pulire perché c'ho da pulire qua per tara Iniziamo Sì, fulmine, sì, fatti vedere, fatti vedere Ecco Anche fulmine Vlogmas c'è un vino fulmino da fulmine Asciutenevai per delle palle Finito? Vatini Iniziamo Questo con bambi è troppo bello Questa è la prima parte perché qua c'è quello grande Infatti qua ci sono i doppi vetri Ci sono scollati anche se pulisco i vetri come se fossero sempre sporchi Faccio via questa parte qui Ok Pugnate Pugnate Ma è il giro il doppio Ok Faccio il neve Quelli qua Ok Ecco qui Questa è la prima parte Questa è la prima parte Che c'è anche qua La scrivania Che c'è un casino della madonna Vedete che c'ho dovuto sistemare anche qui Quindi adesso metto a sistemare anche di qua C'è un casino Adesso sistemiamo e dopo c'è casino Tu non ci dovresti mettere la roba ma Dove sempre qualcosa Ci spostiamo in camera da letto C'è un giro di qua Cosa fa di vedere C'è fulmina che mi sembra ogni volta come se fosse un'ombra Fulmina è finito questi tacchi E qua lo senti con gli tacchi Questo è tutto Adesso mi metto a sistemare casa Faccio un po' una stanza alla volta Se no qua sclero Ci vediamo tra poco che mi metto adesso a sistemare casa Vediamo fulmina e poi mi guado la tele Un primo mi guado la tele Un primo meglio la pulizia Ci vediamo tra poco E vediamo cosa fare e se portarli fuori Vedo? E dipende Qui è sparito la neve Adesso la vado a cercare anche A parte della casa è finito Ci vediamo tra poco Eccoci ritornati E finiamo questo vlogmas Tanto non vi preoccupate che è corto E ci vediamo domani per l'Italia Ci vediamo domani per il vlogmas Ci può venire il numero 15 Mi raccomando iscrivetevi al canale E domani e papà mi raccomando Se no vi è morto Sì sì parola di Chihuahua Tanto questo è un border black No ma a me mi ha mosso però Sì vabbè Vuoi di qualcosa? Niente E fulmina lo slackatore Il nostro slack Questo abbiamo chiuso E ci vediamo domani Alla prossima vlogmas Domani portiamo i cani fuori? Sì Vediamo Ciao Ciao